Namaskar, sono Dada Ranjita Nanda e stiamo preparando questo webinar su Karma giovedì 25 luglio alle 20.30 In questo webinar parliamo di cos'è il Karma la legge dell'azione e reazione i frutti delle azioni e tante altre cose interessanti su Karma Questo è un programma extra che usiamo anche per una raccolta fondi per questo chiediamo 10 euro pensiamo che non è tanto e ci aiuterà a pagare il software che usiamo per tutti gli webinar Ci sono posti limitati c'è la possibilità di fare domande a voce e possiamo anche usare video simultaneamente Così vi aspetto durante questo webinar Namaskar speriamo che tutti possano venire e che facciamo una sala piena Grazie